Caro concittadino, cortesemente paga la tassa dei rifiuti. Si legge così nella lettera che AM e Campidoglio hanno inviato a campione ai romani, allegato al testo per volontà esplicita del gabinetto della sindaca Virginia Raggi, anche il bollettino. Insomma, un appello con tanto di modulo da versare e inviare alla ma stessa, dato che solo l'89,3% dei romani paga la Tari. Poche righe per convincere i cittadini a non finire nel restante 10%, che però hanno fatto infuriare molti. Sotto gli occhi di tutti, infatti, i disservizi della municipalizzata, che nei mesi scorsi hanno portato all'accumulo dei rifiuti in strada a cattivi odori e a rischio emergenze sanitarie. Nella questione Tari penso che si tratta di una tassa e quindi il corrispettivo di un servizio. Se il servizio non c'è, la tassa non è esigibile. Ed è questo il motivo che ha spinto i cittadini, i comitati e associazioni a realizzare una vera e propria cast action contro la municipalizzata romana, per il rimborso della Tari non risultano i presupposti fa sapere lama con una lettera standard inviata ai cittadini. Siamo consapevoli dei disservizi in questo periodo, ma, precisa, sono legati a problematiche connesse all'intero ciclo di gestione dei rifiuti.